Cari amici di Chimbrero.com, quest'oggi parliamo di Google, parliamo di Asus e quindi parliamo del Nexus 7 edizione 2013, uno dei migliori tablet attualmente in circolazione caratterizzato da grandi performance e grande stabilità. Andiamo a fattare adesso un rapidissimo unboxing prima di vedere le specifiche tecniche. Rapidissimo perché Google non ha inserito chissà cosa dentro della confezione, infatti come potete vedere qui abbiamo subito il nostro tablet che mettiamo momentaneamente da parte, sotto il vano sottostante troviamo due libricini per garanzia e istruzioni, cavo USB e carica batterie, niente di più niente di meno. Mettiamo a posto la confezione e andiamo ad utilizzare il nostro tablet. Eccoci qua, il Nexus 7 edizione 2013 ha uno schermo di 7,02 pollici, una risoluzione di 1920x1200 ad alta definizione con 323 ppi, quindi una densità pixel veramente mostruosa, non si riesce a vedere un pixel neanche avvicinandosi molto allo schermo. Cosa troviamo sulla scocca? Allora, anzitutto sulla parte testa troviamo il tasso per accensione e spendimento e bilanciere il volume, troviamo sulla parte alta l'inserimento per il jack audio da 3,5 mm e sulla parte bassa troviamo l'ingresso per il cavo micro USB. Sulla parte sinistra non troviamo assolutamente nulla. sulla parte frontale troviamo qui in alto la fotocamera da 1,2 megapixel e qui in basso troviamo il led di notifica. Non si vede, ma ovviamente una volta arrivata una notifica inizierà a lampeggiare con una luce bianca. Sul retro ancora troviamo la scritta Nexus realizzata letta per letta in ceramica e le due altoparlanti stereo. Troviamo uno qui sopra e uno qui in basso diviso poi dall'ingresso per il cavo micro USB. Per quanto riguarda il processore abbiamo una CPU Qualcomm Snapdragon S4 Pro da 1,5 GHz mentre una GPU Adreno 320 da 400 MHz. Cos'altro dire? La batteria da 3950 mAh fa davvero egregiamente il suo lavoro. Infatti una cosa che vorrei mostrarvi subito è esattamente da quanto tempo è acceso questo tablet. Ovviamente ho fatto varie prove in questi giorni ma per farvi capire il tablet è acceso da un giorno 23 ore 33 minuti e sì al 20% di questo tempo è impegnato dal tablet in attivo ma è stato costantemente con il wifi acceso ricevendo un segnale. leggevo notifiche ogni tanto lo sbloccavo per rispondere a messaggi di chat, email, controllavo il mio account Facebook. Insomma c'è stato un utilizzo seppur scarso in questa situazione ma nonostante ciò siamo ancora al 60% e come potete vedere appunto un giorno 23 ore 33 minuti di attività. Allora ho deciso di installare il Google Now Launcher perché appunto mi rendeva molto bello a vedersi il fatto che appunto la barra in alto e quella in basso sono leggermente sfumate e devo dire che c'è veramente una grande fluidità sia nello scrolling delle pagine dell'home screen sia invece in quelle dell'app drawer. Veramente niente da dire da questo punto di vista una grande grande fluidità. La versione di Android ovviamente è la 4.4.2 che non ha veramente alcun problema in quanto ha stabilità o eventuali scatti come abbiamo detto nella schermata principale. Ma andiamo a vedere subito qualche impostazione. Allora quelle più importanti, qualche novità insomma introdotte dal nuovo aggiornamento sono Touch & Pay, funzionalità che tramite NFC permette di effettuare pagamenti di qualsiasi genere insomma magari che supportano questa funzionalità e utenti. Possiamo stabilire quanti utenti, quante persone insomma diverse possono utilizzare questo tablet e a seconda di queste possiamo impostare se queste abbiano dei privilegi totali oppure se abbiano comunque delle limitazioni. Il mio profilo è quello appunto proprietario ed è quello senza alcuna restrizione mentre il profilo di prova ha alcune restrizioni. Andiamo a vedere subito che tipo delle sezioni A. Se abbassiamo qui in alto, anziché da sinistra che ci mostreranno le notifiche, abbassiamo da destra questa tendina che oltre ai vari quick toggles che tutti noi conosciamo, clicchiamo sulla nostra immagine del profilo. Ecco qui, si blocca lo schermo per poter far scegliere quale account selezionare. Questo è l'account proprietario, se seleziono quello di prova cambia lo sfondo, cambia la lock screen, sbloccando lo schermo possiamo già notare che qui in basso mancano due applicazioni. Andando nell'app drawer ne mancano molte altre. Io ho deciso di escludere un gioco, un'applicazione di mia spontanea volontà, mentre altre sono state rimosse proprio perché un profilo con limitazioni non può avere, ad esempio, un account Google. Non c'è infatti Gmail, non c'è Google+, non c'è neanche foto. Se noi accediamo al Play Store, ovviamente l'accesso verrà effettuato e poi verrà subito bloccato con questa schermata. Non dispone di autorizzazione necessaria per utilizzare Google Play Store. Quindi la necessità di un account Google è riservata esclusivamente all'account proprietario con tutti i privilegi. Adesso andiamo a vedere un po' come avviene la riproduzione dei brani. Abbiamo detto altoparlante stereo, uno posto qui in alto e un altro qui in basso e devo dire che la riproduzione è veramente eccezionale. Andiamo subito a vedere. Allora, il suono è veramente molto chiaro e il bello è che non soffre del fatto che si appoggia una superficie possa distorcere in qualche modo il suono. Anzi, questo contribuirà a diffonderlo, come potete vedere, ma non c'è una perdita particolare della qualità dell'audio. Veramente, veramente molto buono qui il lavoro effettuato da Google e da Asus. E questo era il comparto audio. Andiamo a vedere un po' invece come si comporta la fotocamera. Questa è la fotocamera. Andiamo a vedere un po' come funzionano le impostazioni. Allora, con un tap prolungato sul display accediamo a questa specie di arco con le icone e ogni icone corrisponde ovviamente ad un'impostazione. Per accedere a quelle impostazioni dobbiamo far scorrere il nostro dito su quella, su quell'icona in particolare. E poi per tornare indietro lo scorriamo all'indietro. Un po' strano, un po' particolare comunque come funzionalità, però ovviamente se ci si fa l'abitudine non è nulla di particolarmente problematico. E la messa a fuoco può essere, ecco, automatica senza toccare nulla oppure tappando nella zona che ci interessa verrà fatta in quel punto lì la messa a fuoco. Devo dire che i 5 megapixel di fotocamera si notano condizioni di scarsa luminosità, ma invece quando abbiamo comunque una luce abbastanza forte, insomma la luce normale, ecco la luce del sole, le foto scattate sono abbastanza buone. Passiamo adesso alla modalità video, videocamera. C'è la possibilità di girare video in 1080p. Tra le impostazioni vediamo la modalità rallentatore, registro la modalità appunto il fatto di poter scegliere la qualità del video. Funzionata importante, la photosphere oltre abbiamo la modalità panoramica, questa è la photosphere, ma adesso vediamo un po' una foto già scattata per dimostrare un po' quella che è la qualità della visualizzazione di questo tipo di foto. Ecco una photosphere che ho scattato con la modalità appunto photosphere e il resto c'è la modalità giroscopio. Torniamo un attimo con la normale, eccola qua. E veramente ottimi risultati, si hanno foto di una qualità accettabile comunque. Sfruttando poi il giroscopio, guardate qui, la qualità insomma dei sensori, eccezionale. Insomma l'immagine rimane quasi del tutto ferma mentre ruotiamo il nostro tablet. Fantastico. Passiamo adesso invece alla galleria per mostrarvi un po' quelli che sono i colori dello schermo con qualche immagine di prova. Allora, andiamo subito con un'immagine ad alta risoluzione. Eccola qui. Devo dire che i colori sono veramente molto molto buoni. Ora con qualche immagine di prova vedremo. Ecco qua la tavolozza. Ecco qui. Abbiamo i neri assoluti, veramente niente da dire. I bianchi anche sono veramente molto ben definiti. Riusciamo a vederli tutti quanti senza alcun particolare problema e i colori veramente sono molto molto buoni. Ecco, in quest'altro caso abbiamo un altro esempio. E qui ancora altre immagini per farvi vedere un po' quella che è la qualità di visualizzazione. Niente da dire a riguardo. Andiamo a vedere invece un po' adesso come si comporta a livello video. Questo è un video di prova. È un formato MKV che però non supporta l'audio. Questo è il player di sistema. Il video è riprodotto senza alcun problema, senza alcun scatto. È molto molto fluido. Ma questo formato non è supportato a livello dell'audio. Altri formati invece come l'MP4, AVI non hanno avuto particolari problemi in una riproduzione. Ma nel caso in cui ovviamente vi trovate in possesso di filmati con qualche particolare formato che il vostro tablet riesce a leggere e basta scaricare insomma un qualsiasi altro player esterno dal Play Store per risolvere il problema. Per quanto riguarda i giochi abbiamo fatto una prova con i giochi un po' più importanti, un po' più pesanti come vedi il Real Racing 3 ma altri titoli un po' meno pesanti ma comunque che richiedono un lavoro particolare da parte del processore e non c'è stato veramente alcun problema. Per il gaming questo è un tablet veramente veramente molto buono. non avrete particolari problemi in quanto a scatti o poca fluidità, anzi molto reattivo, scattante, veloce, niente da dire a riguardo, anzi un complimento ulteriore all'eccezione al lavoro svolto della realizzazione di questo tablet. Un piccolo appunto va fatto alla ricezione del Wi-Fi. Io in questo momento mi trovo abbastanza lontano dalla fonte del segnale e infatti va e viene. Nonostante sia sempre agganciato comunque alla rete non riesce spesso a navigare in maniera fluidi, in maniera sufficiente ecco e a scaricare applicazioni in modo sufficientemente veloce. È un po' un problema il fatto appunto che non riesce a, a una certa distanza, tenere il segnale buono. Andiamo a vedere un po' invece come si comporta il browser Chrome perché ovviamente sapete che le applicazioni, le Google Apps sono già integrate essendo questo dispositivo Google. Andiamo sul nostro sito per fare una navigazione di prova. Non c'è alcun problema come potete vedere, almeno nella velocità di caricamento. Questo ovviamente dipende comunque strettamente dal segnale che riceve. Ma lo scrolling avviene veramente in maniera molto fluida. Zoom in e zoom out senza alcun problema. Prima di andare a The Verge, facciamo uno sforzo ulteriore su un sito un po' più pesantuccio e vediamo come si comporta. Pesando un po' di più impiegherà più tempo, anche perché vi ho detto che suona anche abbastanza lontano dal segnale, dal fondo del segnale. E lo scrolling avviene in maniera molto molto fluida. Zoom in e zoom out senza alcun problema. Insomma, che dire, questo tablet mi ha veramente molto colpito. Sicuramente è uno dei migliori in circolazione ed ha davvero ottime prestazioni. Forse qualcuno potrebbe storcere il naso per il fatto che è comunque un 7 pollici, ma devo dire che la sua densità pixel, i colori e le capacità che questo dispositivo offre veramente, per quanto mi riguarda, me lo fanno ritenere uno dei migliori anche rispetto ad altri suoi concorrenti con schermi molto più grandi. Alle mie spalle c'è il forum di Chimera Revo. Se deciderete di iscrivervi troverete un gruppo di persone pronte a rispondere alle vostre domande relative a questo dispositivo, gli altri dispositivi recensiti e non. E riguardo tutte le domande che potrete farci riguardo gli argomenti che trattiamo. Ciao!